Vi avevo avvisati, vi avevo avvisati, vi avevo avvisati, parlerò un po' di tutto, parlerò anche della Atala, della Atala. C'ho un'afta dietro, all'interno della bocca, mi fa un male, cane, un male, cane, 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 lo so, tutte io, tutte capitano, tutta me. Ma vi avevo avvisati sì o no? Parlerò di tutto, parlerò anche dell'Atalanta e bisogna parlare dell'Atalanta perché, ragazzi miei, è sempre la squadra che l'anno scorso è arrivata terza in Serie A. Non dimentichiamola, non dimentichiamola, l'Atalanta è la squadra che l'anno scorso è arrivata terza. Teniamolo sempre ben a mente ed è una squadra che, ragazzi miei, si sta muovendo anche bene sul mercato e ad oggi possiamo dirlo. Perché dopo l'anno scorso già tutti pensavamo, sì, ma l'anno prossimo l'allenatore andrà via, Zapata via, Gomez via, Ilicici via. E intanto, intanto, intanto sono arrivate le conferme di Gasperini. E già è tanta roba. Questo significa che lo stesso Gasperini avrà avuto delle conferme, delle certezze da parte della società. Sappiamo che Ilicici non parte più, Papo rimane, bisogna vedere Zapata, bisogna vedere un po' Zapata, ma per il resto al momento in uscita abbiamo visto soltanto Mancini. Ma in entrata già due colpi, Muriel e Malinowski. Parliamo un po' di questo Malinowski, parliamo anche di quello che sta paventando sotto banco. Allora, Malinowski viene dal campionato belga Ghent e in tre anni, questo qua, in tre anni, numeri, numeri alla mano, numeri, 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 numeri. Ha collezionato 130, se parlo un pochettino strane, è sempre per questa bolla, Afta, nome tecnico, Afta, che ho all'interno e non riesco neanche a parlare. Tre anni al Ghent, scusate, ma che figura di me, vabbè, ci sono abito a tre anni al Ghent, o Genk, ma credo Genk. Campionato belga, ha collezionato 135 presenze, 30 gol, 32 assist. E capisco che campionato sia quello che sia, ma sono comunque numeri notevoli. Poi l'anno scorso il Genk, bellissimo sto nome, ha vinto anche il campionato e lui l'anno scorso, sempre numeri alla mano, se li trovo, chiude la stagione con 51 presenze. Ovviamente non parliamo solo del campionato, ma parliamo delle presenze stagionali. 51 presenze, 16 gol, 16 assist, compresa Coppa del Belgio e UEFA Europa League. Quindi questo ragazzo ha anche qualche esperienza a livello europeo. Si parla di un giocatore, di un centrocampista molto duttile, qualità, ha a quanto pare un sinistro davvero forte e preciso. Lo valuteremo, comunque i gol parlano chiaro, le cifre parlano chiare. E anche l'investimento è abbastanza importante da parte di una società come l'Atalanta. Perché si parla di 14 milioni, di 13,7 milioni. Non è poco, ma io tra virgolette mi fido delle valutazioni che fanno all'Atalanta. Perché l'Atalanta gli osservatori sono sempre a curare, ti trovano sempre quei giocatori che sono congeniali e utili. Per cui, secondo me, questo acquisto ha comunque senso. Lo vedremo, lo vedremo, lo valuteremo in questa stagione di Serie A. Giocherà con la numero 18, se proprio vogliamo straffare con le informazioni. Andiamo alla grande, alla grande. E quindi questo è già ufficiale, lo sapete bene, è tutto fatto. Non si sa l'ingaggio, almeno io non ho trovato l'ingaggio del giocatore. Voi sicuramente siete più bravi di me. Se lo sapete, mettetelo sotto nei commenti, così sappiamo e andiamo a completare le informazioni del caso. Non è finita qua perché rumors, diciamola tutta, rumors, danno l'Atalanta, accostano l'Atalanta ad un ex, ad un ex dell'Inter. Un ex dell'Inter che è andato a giocare in Cina. Di chi sto parlando? Classe 96, cioè Guaro, il Guaro, Freddy Guarin. Proprio lui, classe 86, un 33enne. Sappiamo bene che Guarin praticamente ha strizzato sempre l'occhio un po' verso l'Italia, soprattutto verso l'Inter. Voleva tornare, vorrebbe tornare a tutti i costi all'Inter. Ovviamente, secondo me, non rientra più nei piani, nel progetto nero-azzurro. Un giocatore anche un pochettino avanti con l'Italia, ma è un giocatore che comunque, che a me, quando giocava all'Inter, faceva impazzire positivamente e negativamente. Perché c'è una partita in cui era stralipante, altre in cui veramente non riusciva a zeccare nulla. Un giocatore che se sta bene fisicamente, proprio quello è il problema, se sta bene fisicamente, è un giocatore comunque forte. Giocatore bravo, aveva un destro, mamma mia. Almeno un giocatore che segnava da fuori aria all'Inter, dopo tanto tempo, ce lo avevamo. E appunto, perché sarebbe comunque fattibile? Perché il giocatore, innanzitutto, ha rescisso o rescinderà, non lo so nello specifico, ma ha già strappato il contratto, diciamola così. E l'anno prossimo, l'anno prossimo, o meglio, si è liberato a zero, per cui chi lo prende, lo prende a parametro zero. L'Atalanta, non neghiamolo, ha adesso un certo appeal, perché comunque una squadra che l'anno prossimo gioca in Champions League, non lo dimentichiamo. Il giocatore ha preferenze verso il campionato italiano e si potrebbe fare. Perché no? Si potrebbe fare. Bisogna vedere poi se all'Atalanta interessa un acquisto del genere, se vuole arricchire un pochettino il centrocampo fornendo un giocatore con esperienze maggiori, se vogliamo, o se riterrà inutile questo acquisto. Però l'Atalanta ha accostato questo nome all'Atalanta. Non so quanto ovviamente ci possa essere di vero, i giornalisti lo sappiamo bene, ormai si parla di tutto e di più. Ma questo video, principalmente per comunicare un pochettino quello che era e quello che è stato il calciomercato dell'Atalanta sino ad oggi. In squadra che, ripeto ancora una volta, ha tutta la mia stima, perché è una squadra che l'anno scorso ha mostrato un bel calcio. Io sono sempre, sempre a favore, a favore sempre alla mercè di chi mi fa emozionare e l'anno scorso sono stata una di quelle squadre là. Per cui, tanto di cappello sempre, ancora una volta, alla squadra bergamasca. Giulia Levaletà, tanto amore verso il calcio. Va bene, fatemi sapere cosa ne pensate voi, fatemi sapere tutto quello che volete sotto nei commenti. Ditemelo vostro, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. La che? La campanellina? Din 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 din. Attivatela, se no come vi aggiorno, come ci confrontiamo. E poi niente, sondaggio Manilovski. Farà bene o non farà bene? Facile e facile. Farà bene o non farà bene nella prossima stagione? Visto che siamo tutti veggenti, scrivetelo, votate il sondaggio. Punto basta, mi sono dilungato abbastanza. Alla prossima, un grande abbraccio da Neschio. Si torna alle 18, ogni 3 ore di stacco, si parla di Inter perché sono uscite delle alternative a Lukaku. 18, un grande abbraccio da Neschio. Si torna Mai. Un grande abbraccio da Neschio. Iniziamo. Non ingоб erschir展ere. 5